Da un punto di vista commerciale semplicemente permette di avere gli strumenti per poter parlare con distributori, export manager, importatori, tutte le persone che sono responsabili per i buyer internazionali. Pensiamo per esempio ai mercati che fanno più gola ai produttori italiani. Oltre chiaramente allo consolidato mercato americano si parla sempre di Scandinavia. Bene, in Scandinavia, ho avuto il piacere di vivere anche un anno in Svezia, posso dire che in Scandinavia il WST è fondamentale per chi si mette nel mondo del vino. Viene considerata una qualifica necessaria anche per i buyer, non parliamo solo di sommelier. Quindi per un produttore si troverebbe ad avere gli stessi strumenti che il buyer ha per poter comunicare sulla stessa linea d'onda.